Valérie Trier-Vailer è uscita oggi dall'ospedale parigino della Pitié-Salpêtrière con la scorta degna di una Premier Dam. Vale a dire col seguito dei motociclisti in servizio all'Eliseo, secondo i soliti siti parigini ben informati. La destinazione è questa che vedete, la residenza cosiddetta della Lantern a Versailles. Residenza di Stato, vale la pena di notare. Un tempo riservato al primo ministro in carica, dall'epoca di Sarkozy invece destinata all'uso del Presidente della Repubblica. Tanto piaceva a Nicolà e alla moglie Carla che decisero di passare qui la loro prima notte di nozze. Residenza di Stato, dicevamo, quindi con misure di sicurezza adeguate e tra l'altro sulla Lantern è già in vigore il divieto di sorvolo che servirà a scoraggiare i paparazzi più insistenti. Il luogo ideale per permettere alla Trier-Vailer di trascorrere qualche giorno di convalescenza nella più assoluta tranquillità, ma anche un luogo che lascia aperto il dibattito sullo status di questa donna nella Repubblica. Sempre secondo le indiscrezioni dei giornali parigini, Valérie e François Hollande avrebbero deciso di concedersi un po' di tempo prima di prendere una decisione definitiva sulla loro storia. Il Presidente era andato in ospedale a trovarla solo una settimana dopo il suo ricovero, ma solo perché le cure alle quali la donna aveva dovuto sottoporsi dopo il crollo nervoso subito, quando il compagno le avrebbe rivelato la relazione con l'attrice Julie Gaillet, per un po' hanno sconsigliato la visita, hanno fatto sapere fonti dell'Eliseo. François Hollande oggi è stato ben lontano da Parigi, per lui un ritorno nel suo feudo elettorale della Correza, Tulle, la città di cui è stato sindaco per otto anni. L'inaugurazione di una caserma della Gendarmerie, un discorso di prammatica per gli auguri per il nuovo anno, roba per cui un anno fa si sarebbero scomodati ben pochi giornalisti. Oggi c'erano 90 reporter accreditati da tutto il mondo, ma il Presidente non ha dato spunti alla stampa. Del resto un sondaggio pubblicato oggi dice che il 75% dei francesi approva il silenzio di Hollande sulle sue faccende private, anche se poi i francesi corrono in edicola a fare la fortuna dei giornali che trattano la vicenda. In testa a tutti ovviamente Closer, il settimanale che ha rivelato l'affaire con Julie Gaillet. L'attrice si è saputa, ha citato in giudizio la testata e ha chiesto 50.000 euro come risarcimento danni per la privacy violata. Il processo si aprirà il 6 marzo davanti al Tribunale di Nanter.